Buonasera a tutto il mondo, noi siamo in Mama Africa Kai e Mama Sper stasera Fissa e love, buone vibrazioni a tutti quanti nel posto 20 luglio 2011 La globalizzazione va avanti Tutto il mondo uguale, sotto una stessa economia La nuova religione, la repressione va avanti I militari, la polizia, Mama Africa a chi presente Con chi resiste, la resistenza Ciò che ci permette di avere ancora speranza Nella libertà, sin 20 luglio 2001 Lo hanno ammazzato in piazza come un cane Sin, lui era mio fratello Lui faceva parte della resistenza E c'è chi ha detto che doveva stare a casa Ma io dico, la nostra casa sono le strade Quindi, riappropriamoci delle nostre vite Stasera rappresentiamo Carlo Giuliani su tutti Carlo Giuliani Carlo Giuliani Dalla sua uncisione Dalla sua uncisione Lo mataron alla, in la playa Che ora tiene su nombrè Lo mataron alla, in a Carlitos Way In a Carlitos Way Carlitos Way Carlitos Way Carlitos Way